Noi siamo corniciai per cui ci occupiamo di realizzare cornici su misura e l'azienda è stata creata dai miei genitori nel 1975 e io e mia moglie siamo dal 2015 siamo entrati a pieno titolo. Il finanziamento è stato di 29 mila euro circa e l'abbiamo utilizzato per l'acquisto di macchinari per rinnovare le nostre attrezzature e macchinari che ci servono per la produzione e anche per la gestione del packaging e dell'imballaggio delle nostre realizzazioni. Sicuramente ci hanno consentito di migliorare il processo produttivo, quindi noi puntiamo principalmente sulla qualità per cui rinnovare i macchinari ci hanno consentito di realizzare un prodotto più di qualità, abbattere i tempi di produzione e anche di poter affrontare nuovi campi, nuovi settori come quello dell'e-commerce o uno sviluppo di produzione maggiore accorciando i tempi e quindi un incremento anche del fatturato.